Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare e coda per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze. Ci spostiamo in Fipilli verso Firenze e coda a tratti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In carreggiato opposto rallentamenti all'altezza di Firenze Scandicci e in uscita alla Strassigna. Siamo ai cantieri per la Trambia di Firenze fino a metà marzo. Circa il passaggio pedonale di via Palazzo Bruciato che collega via Vittorio Emanuele II e via Pisacane sarà chiuso. I percorsi alternativi sui nostri canali social. Prima di salutarci per le strade statali sul raccordo Siena-Firenze segnaliamo scambio di carreggiata tra Firenze-Certosa e San Casciano Nord verso Siena. Muoversi in Toscana-Linfe è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie!